Claudio Baglioni, il celebre cantautore romano di 73 anni, si è trovato costretto a fermarsi a causa di problemi di salute che hanno causato il rinvio del debutto del suo ultimo tour nei teatri lirici. Il cantante ha spiegato che l'eccessivo carico di lavoro durante le prove per i concerti ha avuto un impatto negativo sulla sua salute. Le prime date del tour sono state dunque posticipate e Baglioni esordirà il prossimo 15 gennaio al Teatro dell'Opera di Roma. Baglioni ha comunicato ai suoi fan con rammarico che il rinvio della tournée è stato necessario a causa di problemi fisici che si sono manifestati durante le prove per i concerti solistici di piano di volo. Il cantautore aveva grandi ambizioni per questo tour ma il suo desiderio di fare sempre meglio ha avuto conseguenze negative sulla sua salute. Dolori, infiammazioni e problemi alle articolazioni hanno costretto Baglioni a fermarsi e a prendersi una pausa per curarsi. Il debutto del tour è stato quindi rinviato al 15 gennaio 2025 a causa di una epicondilite al gomito destro e di un'artralgia da tendinopatia carpometacarpale bilaterale che hanno colpito Claudio Baglioni. Il cantante ha espresso il suo dispiacere per il disagio causato ai fan ma ha sottolineato l'importanza di prendersi cura della propria salute. Baglioni ha assicurato che tornerà in forma e che il tour riprenderà non appena sarà completamente guarito. I fan del cantautore romano dovranno dunque attendere ancora un po' per poterlo vedere esibirsi dal vivo. Ma Claudio Baglioni ha promesso che va la pena e che il cur è ancora più emozionante. Grazie a tutti per aver guardato il video.